Test di matematica. Positivo! Test della patente. Positivo! Test HIV. Test HIV. Fare il test è fondamentale per prevenire la diffusione del virus. Se è positivo, hai l'HIV. Ma essere positivi non è più una condanna, se c'è chi ti aiuta. Sostieni Lila, che organizza giornate di test gratuito e supporta i giovani con HIV. Invia un sms al 45504 o chiama da rete fissa e aiuta Lila a contrastare l'infezione. Negativo! E vai!